Perché Dessert prende 6,5? Nonostante la sconfitta della Cremonese perché tocca molti palloni, 39 perché nel primo tempo impegna Milinkovic-Savic, perché dimostra di avere il fisico e devo dire anche l'intensità, la personalità nella partita di essere comunque protagonista. Il suo è un ottimo contributo, dalla sensazione di potersi imporre nel campionato di Serie A, poi ovviamente c'è anche l'elemento legato all'assist per Sernicola che in qualche modo riapre la partita del finale. Nonostante la sconfitta questa partita conferma le buone sensazioni e le buone speranze che ci sono su di lui. Grazie.